Ciao ragazzi, ciao a tutti, benvenuti a questo video di presentazione del sito internet Tapes of Living Metal. Siamo all'aperto, siamo in campagna e volevo parlarvi di questo sito perché è una novità, si chiama come vi ho detto tapesoflivingmetal.com ed è un sito dedicato alla musica heavy metal soprattutto e in particolar modo dedicato al formato cassetta. E questo sito è la base di partenza per cui da una parte troverete dei video che sono poi postati su internet e potete vederli tranquillamente ma allo stesso tempo il video, l'audio del video sarà pubblicato su una piattaforma di podcast per cui avete sia le immagini sia l'audio evidentemente sia il video e quindi solo l'audio come preferite voi. Però il punto di partenza come vi dicevo è il sito Tapes of Living Metal perché sul sito troverete in più anche delle notizie riguardanti le uscite in formato cassetta di novità o di eredizione o di ristampe e poi sempre sul sito trovate tutti i link per le case discografiche che fanno o soltanto formato cassetta o comunque tra le loro uscite che siano vinili cd trovate anche le cassette e poi trovate tutti i link anche per il podcast perché il podcast è la piattaforma che ci ospita è Anchor.fm ma allo stesso tempo una volta che io pubblico l'audio su Anchor lo trovate anche sulle varie piattaforme come Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e tante altre per cui tutti i link li trovate per cui potete poi andare sul podcast che vi interessa la piattaforma che preferite e ascoltate podcast lì mentre per il video beh per il video non c'è moltissima scelta per cui siete un po' obbligati ecco quindi benvenuti spero che questo sito queste video e questi audio che pubblico vi possano piacere vi possono interessare se siete dei gruppi potete contattarmi tranquillamente e vi risponderò con piacere se fate parte di case discografiche ugualmente contattate mi sarò lieto di rispondervi se siete dei promotori allo stesso modo potete contattarmi se siete dei fan o degli appassionati anche lì potete contattarmi e risponderò con piacere sul sito trovate un formulario di contatto per cui potete usare quello o se no trovate un po' dappertutto il mio indirizzo email che è metallifer chiocciolayau.com molto semplice metallifer chiocciolayau.com apro soltanto una parentesi per dirvi che su youtube io avevo già un canale molto vecchio dedicato alla musica heavy metal che ho ribattezzato quindi tapes of living metal e per cui ci sono dei video vecchi che ho tenuto che vanno bene anche per questo progetto anche se in realtà ci sono un po di cd però mi spiaceva cancellarli o toglierli della circolazione c'era per esempio un po' di lavoro anche sugli aromade su alcuni vinili o su alcune box degli aromade per cui anche qui mi spiaceva eliminarli per cui se siete abbonati al vecchio sito ha cambiato soltanto al vecchio canale youtube ha cambiato soltanto nome e e allo stesso tempo il podcast la piattaforma vi dicevo che ci ospita anchor.fm esisteva come podcast e si chiamava all'epoca heavy metal podcast in italiano e anche qui l'ho ribattezzata come tapes of living metal ho cambiato l'icona ho cambiato alcuni link e così via per cui se eravate già abbonati o seguivate già heavy metal podcast in italiano non siate sorpresi c'è un cambiamento di nome e ci sarà un cambiamento anche di contenuto perché vi dicevo i contenuti saranno più indicati indirizzati alla musica heavy metal in senso stretto quindi l'heavy metal tradizionale degli anni 80 e contemporaneo anche se oggi si chiama più traditional heavy metal o la new wave of traditional heavy metal e soprattutto vi dicevo al formato cassetta per cui ecco mi spiaceva anche qui cancellare o non utilizzare più il vecchio podcast che avevo creato uno nuovo perché comunque c'erano degli abbonati che mi seguivano e mi spiaceva fare lavoro due volte perdere i vecchi abbonati e così via per cui se siete abbonati al podcast il podcast esiste ha cambiato solo nome il contenuto più mirato alle heavy metal mentre prima parlavo un po' di death trash black e così via quindi sarà più ridotto il campo ma essendo più ridotto sono un po' più come dire spero di essere più esaustivo e legato al contenuto perché sono un appassionato di metal ma come dire le cassette per appassionati di cassette non c'era molto su internet soprattutto in italiano da qui l'idea di fare un progetto più mirato saremo probabilmente in pochi a seguirlo però non è un problema l'importante è fare una cosa che mi piace e che spero possa piacervi per cui vi do appuntamento al primo video vero e proprio per una presentazione su tips of living metal punto com e poi quindi sul podcast e su sul video sul canale video che su youtube ciao ragazzi state bene alla prossima ciao